Oggi con WeGrill ed Elegent prepariamo bavetta aromatizzata con paprika. Aggiungiamo sale, pepe, paprika, un filo d'olio. Inseriamo la bavetta all'interno di una busta per il sottovuoto. Grazie alla macchina sottovuoto Elegent Vacuum Machine Modello Basic prepariamo il sottovuoto. Inseriamo la busta nel Sucooker Pro Chef di Elegent e cuociamo per 8 ore a 55 gradi. Dopo la cottura prepariamo ora il nostro WeGrill. Per questa cottura utilizziamo l'accessorio teglia con griglia media. Per avere una cottura più o meno al sangue basterà regolare i livelli di cottura del nostro WeGrill. Scaloppiamo e serviamo con una piccola guarnizione.